vegan si consigli di alimentazione vegana conduce miriam ad au benvenuti a questa nuova puntata di vegan si su radio dreamland un saluto a tutti da miriam ad au e partiamo subito con un argomento di larga portata avevamo visto in una precedente puntata come sia urgente salvare il pianeta dai disastri all'ecosistema provocati dagli umani e a cui ora bisogna assolutamente correre a ripari per non rimanere senza la vita stessa argomento che ha molte sfaccettature e una di queste riguarda gli oceani e i suoi abitanti ma per i suoi abitanti si intendono gli esseri che vivono dentro gli oceani e i mari lo sapevate che una larga fetta di pianeta da salvare è proprio quella oceanica avete presente quelle bellissime immagini del nostro pianeta terra scattate dalla iss la internet international space station o dagli astronauti nelle varie missioni spaziali quella bella gemma azzurra sferica orbitante nello spazio compagna di infiniti altri pianeti e stelle ecco tanto per avere un'idea della larga portata dei danni inferti alla nostra terra se proviamo a fare da quella prospettiva dall'alto uno zoom in verso di lei e puntiamo al centro del pacifico settentrionale addirittura vedremo una larga strana nuova isola che galleggia è un'isola di microplastica che è stata denominata great pacific garbage patch si tratta di una immensa massa di spazzatura che vaga nell'oceano pacifico pensate ben oltre 21.000 tonnellate di microplastica in un'area di qualche milione di chilometro quadrato con una concentrazione massima di oltre un milione di pezzetti per chilometro quadrato l'accumulo è noto da parecchio tempo perlomeno dalla fine degli anni ottanta e ha un'età di oltre 60 anni un gigantesco vortice di correnti superficiali ha concentrato in quest'area i rifiuti formati principalmente da materiali plastici e questa concentrazione dipende dal fatto che la plastica non è biodegradabile e permane per tempi lunghissimi nell'ambiente una lentissima degradazione a opera principalmente della luce del sole scompone i frammenti plastici in sottili filamenti caratteristici delle catene di polimeri questi residui non sono metabolizzabili dagli organismi e così finiscono per formare un vero e proprio brodo nell'acqua salata dell'oceano e finiscono poi per entrare nella catena alimentare visto che i filamenti plastici sono difficilmente distinguibili dal planton e quindi ingeriti dagli organismi marini ma sono una minaccia anche per la capacità della microplastica di fornire un supporto alla proliferazione di colonie microbiche di patogeni più in generale è anche preoccupante la presenza di rifiuti pervasivi e tossici in un ecosistema fondamentale durante periodi di decine e centinaia di anni è l'esempio dell'impatto delle azioni umane sull'ambiente e che inevitabilmente ci si ripercuotono anche contro e l'oceano atlantico non è da meno da 12 a 21 milioni di tonnellate di frammenti di plastica inferiori ai 5 mm e solo nei primi 200 metri di profondità e questo il bilancio di uno studio inglese pubblicato sulla rivista nature communications il 18 agosto 2020 a renderlo noto è uno studio del britannico national oceanography center nel 2019 biologi inglesi hanno trovato microplastica nelle pance anche di alcuni gamberetti sei fossi oceaniche inclusa quella delle marianne contengono residui di nylon e altre fibre artificiali ma è vero anche che persino le reti dismesse continuamente dalla pesca commerciale sono di fibre di plastica e contribuiscono grandemente al suo accumulo in mare infatti le reti da pesca costituiscono il 48 per cento della plastica dispersa nei nostri oceani e anche altri tipi di attrezzi da pesca rappresentano la maggior parte del resto e questa è una delle altre sfaccettature del problema la pesca così anche se l'inquinamento da plastica è uno dei problemi ambientali più grandi del nostro tempo con 150 milioni di tonnellate di rifiuti che galleggiano in mare l'impatto che l'uomo ha sui mari e sui suoi ecosistemi va ben oltre questa aberrazione la pesca e soprattutto la pesca intensiva sta distruggendo i mari a una velocità inimmaginabile sempre immagini scattate dalla ISS mostrano gli oceani solcati da tante righe ebbene sono le reti trainate dai pescherecci è anche bene sapere che i mari non sono solo l'abitata di migliaia migliaia di specie animali e vegetali ma sono essenziali per l'equilibrio dell'atmosfera che circonda la terra e anche di conseguenza per la nostra sopravvivenza basti pensare che producono la metà dell'ossigeno che respiriamo mentre assorbono circa un terzo delle emissioni di gas inquinanti create dall'uomo in più dagli anni 60 sono stati fondamentali per regolare la temperatura della terra assorbendo il calore in eccesso dovute al dovuto alle attività umane l'uomo invece anziché essere grato di tutto questo è stato invece in grado di distruggere in pochi decenni il 29 per cento delle specie di pesce per uso commerciale in modo abominevole ogni anno vengono uccisi non solo milioni di pesci ma anche 650 mila animali marini tra balene delfini e foche incluso il massacro di 73 milioni di squali all'anno addirittura sembra che sia calcolato 30 mila squali ogni ora per la loro carne o perché si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato in asia si consumano enormi quantità di zuppa di pinne di squalo considerata un simbolo di ricchezza e un elisir di lunga vita se vogliamo lo sterminio di questi esseri è legato anche a questa consuetudine nonostante sia stato più volte dimostrato che le pinne di squalo non apportano benefici significativi alla salute la pesca intensiva ma anche gli allevamenti di pesce distruggono animali, piante, abitato acquatico e quindi gli ecosistemi acquatici e rappresenta un serio pericolo per la sopravvivenza di tutte le specie oltre ad avere un risvolto etico che non possiamo più ignorare per quanto riguarda il mar Mediterraneo che ci riguarda anche più da vicino il ricercatore della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, del CNR e di altri studi italiani e internazionali hanno pubblicato a febbraio su Frontiers in Marine Science uno studio in cui propongono un modello di pesca sostenibile gli autori hanno applicato il modello ad alcune delle zone di mare più frequentate dai pescatori e più soggette tanto alla pesca a strascico quanto allo spreco di pesce la Sicilia meridionale, l'Alguria, il Portogallo, la parte della costa continentale e la Spagna, la parte della costa catalana i ricercatori hanno analizzato i dati degli ultimi 15 anni sulla pesca a strascico e sullo scarto di pesci e crostacei sotto la taglia minima di ferimento e ributtati in mare da tenere presente che, secondo la FAO, il 75% dei banchi presenti nel mar Mediterraneo, nel mar Nero è in overfishing, cioè sottoposto a prelievi superiori alle possibilità naturali di ripristino e nonostante questo, circa il 40% del pesce pescato viene buttato in più, circa la metà di quello sprecato nel Mediterraneo arriva proprio della pesca a traino su queste rotte ricordiamo che sempre la FAO ha fatto una stima che entro il 2048 gli oceani saranno vuoti, disabitati e in questa visione quasi apocalittica, diciamo non ci saranno che montagne di microplastiche come unici abitanti se non si interrompe la distruzione dei mari e del popolo marino di animali non umani anche se i risultati dello studio sopra citato per quanto riguarda il mar Mediterraneo forniscono una conoscenza per supportare l'applicazione di azioni di gestione su base dello spazio, come la disegnazione di zone di restrizione della pesca al fine di ridurre al minimo le catture accessorie di esemplari sottodimensionati e migliorare comunque la sostenibilità della pesca alla fine dei conti, quello che aiuterebbe davvero i mari a riprendersi non è la pesca sostenibile ma non pescare più e quindi passare a un'alimentazione senza uso di pesce proprio così come si è visto che lo stesso è necessario per gli allevamenti intensivi terrestri l'unico modo per evitare la sofferenza di miliardi di animali e prevenire la crisi climatica anche per i mari è eliminare il consumo di pesce e scegliere un'alimentazione vegetale e proprio questo viene anche messo in luce dal nuovo docufilm Si ispira a si visibile dal 24 marzo su Netflix il nuovo documentario prodotto da Kip Andersen co-regista e produttore di Cospiracy che in questo caso mette in luce l'impatto che le attività umane hanno sugli ecosistemi marini e di come la pesca stessa in tutte le sue modalità tra l'altro condotta in modo atroce sempre sia un non senso e non abbia nulla di sostenibile questo ha una profonda implicazione etica perché anche se sembrano molto diversi da noi i pesci dai più piccoli ai grandi mammiferi marini in realtà sono animali comunicativi e sensibili intelligenti e senzienti per esempio hanno vibriste sulla schiena che registrano vibrazioni e campi elettrici e hanno papille gustative nella gola così come nel naso e nelle labbra usano la bocca più o meno come noi usiamo le dita per afferrare e esplorare gli oggetti per raccogliere cibo costruire rifugio e prendersi cura anche dei piccoli per esempio quando avvertono un pericolo imminente alcuni pesci aprono la bocca per permettere ai piccoli di nascondersi all'interno per di più la bocca dei pesci è così sensibile agli stimoli che il dolore che provano è particolarmente acuto quando viene ferita per esempio quando vengono presi al lamo e qui c'è implicato anche tutto il discorso di quella che viene chiamata pesca tra virgolette sportiva e che dire poi delle aragoste sono animali intelligenti e dalla vita sociale complessa addirittura possono camminare sul fondo dell'oceano per centinaia di chilometri durante le loro migrazioni stagionali e possono vivere fino a 100 anni purtroppo usare la parola sostenibile per la pesca è un non senso la pesca è un orrore per tutti gli esseri marini che vengono strappati dolorosamente al loro habitat naturale bisognerebbe provare a immedesimarsi perché nella pesca in mare i pesci quando vengono issati dalle profondità marine subiscono una dolorosa decompressione che determina la fuoriuscita dei bulbi oculari e spinge l'esofago e lo stomaco fuori dalla bocca i pesci più piccoli sono normalmente gettati su letti di ghiaccio tritato la maggior parte di loro mentre sta soffocando perché fuori dall'acqua viene anche schiacciata a morte da quelli che a loro volta gli vengono gettati sopra mentre i pesci più grandi vengono buttati sul ponte squertati vivi ma anche negli allevamenti i pesci vengono uccisi senza nemmeno essere storditi le loro arcate branchiali vengono tagliate vengono lasciati sanguinari fino alla morte in preda a convulsioni e altri evidenti segni di sofferenza in altri casi gli animali vengono uccisi semplicemente prosciugando l'acqua dalla vasca mandando l'incontro a un lento soffocamento e che dire dei crostacei? vengono tenuti ad agonizzare in piccole vasche con le chele legate per impedire loro di muoversi e di attaccare le altre capita agli astici, ai granchi, alle ragoste tra l'altro le ragoste sono animali solitari abituati a grandi spazi in fondo al mare e trovandosi prigionieri in un posto piccolissimo impazziscono anche noi come diventeremo se subissimo lo stesso trattamento vengono infine bollite vive senza alcuna pietà in una lenta agonia mentre cercano disperatamente di uscire dalla pentola e questo è terribile è accertato che a meno che questi animali non siano storditi elettroticamente prima possono essere necessari fino a tre minuti prima che un granchio muoia in acqua bollente e anche di più per una ragosta questo è veramente e davvero atroce quindi se dicevo che è un problema etico lo è per davvero e anche in questo caso il modo per andare oltre e fare la differenza e poi alla fine semplicemente fare la scelta quella di non mangiare più altri esseri senzienti la dottoressa Sylvie Harle uno dei maggiori esperti di biologia marina del mondo ha dichiarato non mangerei mai una cernia come non mangerei mai un cocker spaniel le cernie sono così di buon carattere e curiose sapete i pesci sono sensibili hanno personalità provano dolore quando vengono feriti e ancora afferma oggi abbiamo perso circa la metà delle barriere colalline e quasi il 90% dei pesci di grosse dimensioni abbiamo decimato pesci in maniera spaventosa ogni anno preleviamo dagli oceani quasi 100 milioni di tonnellate di fauna distruggendo gli habitat credevamo che l'oceano fosse vasto resistente e con risorse infinite non ne ha fatto così e noi abbiamo rotto i suoi equilibri nessuna specie ha cambiato i mari più degli umani abbiamo preso il pesce su scala industriale e abbiamo riempito gli oceani di plastica ora è tempo di invertire la rotta prima che il danno sia irreversibile impegnata a oggi in una iniziativa globale che supporta il progetto Rolex Perpetual Planet ha lo scopo di proteggere e difendere i mari e gli oceani dalla sovrapesca dagli effetti del cambiamento climatico dall'inquinamento e dalle predazioni dell'uomo e sono sue parole salvando l'oceano proteggiamo noi stessi che dire dunque del pesce? perché distruggere la nostra casa per mangiare pesce? e perché procurare tanta sofferenza? il principio non è diverso dal perché mangiare carne quando di entrambi non abbiamo bisogno ma soprattutto perché mangiare esseri pari a noi di pari intelligenza se non addirittura più sviluppata della nostra e soprattutto esseri che con noi viaggiano sulla stessa gemma azzurra nello spazio esseri che meglio di noi conoscono le profondità degli oceani e le altre infinite forme di vita che ospitano e che a noi sono ancora sconosciute direi che è tempo di cambiare ottica e possiamo farlo da ora a partire dall'alimentazione umana per essere pronti a un dialogo armonico e rispettoso con tutte le espressioni di vita che il nostro pianeta offre e magari non solo il nostro pianeta e proprio a questo proposito consiglio un libro che allarga gli orizzonti apre la mente e riaccende lo spirito che è in ognuno nel considerare diversamente dall'ovvio le creature a noi aliene quelli che l'umano ha classificato come animali tra virgolette e che coabitano sulla e nella sfera azzurra che ruota nello spazio con noi si tratta del libro alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro nell'attuale edizione aggiornata e ampliata che potete trovare in questi giorni anche in edicola con la testata del giornale Cronaca Qui in Torino e provincia oppure alla grotta di Merlino in piazza Statuto 15 sempre a Torino oppure sul sito www.3scaleedition.com anche in ebook ma ora lasciamo lo spazio alla pubblicità a tra poco Meditazione Planetaria del Martedì Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della Meditazione Planetaria del Martedì Sera organizzata dal New Earth Circle ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla Meditazione Planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta per un atto d'amore verso Madre Terra per un mondo antispecista unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro ogni martedì alle 21 per informazioni www.newearthcircle.org Radio Dreamland Share the Vision Rieccoci con Vegan Sea e adesso diamo uno sguardo a quanto il pesce possa essere salutare o meno mentre adesso si è più certi e quindi più informati sui danni all'organismo dovuto al consumo di carne molti continuano a indicare il pesce come un cibo salubre ma non è proprio così la motivazione principale della sua presunta salubrità sta nell'apporto di acidi grassi essenziali omega 3 di cui si pensa sia ricco il grasso di sardine sgombri a ringhe pesce spada salmoni e tonni è vero che gli omega 3 sono benefici per lo sviluppo del sistema nervoso per la vista le capacità cognitive e soprattutto per la prevenzione delle malattie cardiovascolari ma facciamo una parentesi gli omega 3 sono detti grassi essenziali perché il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli da solo ma devono essere ricavati dal cibo che mangiamo ogni giorno ci sono molti luoghi comuni e informazioni non proprio corrette che riguardano questo nutriente in generale tutti gli acidi grassi polinsaturi come gli omega 3 sono importanti per la salute delle membrane cellulari del nostro organismo e poi sono utili a contrastare l'eccesso di trigliceridi e a mantenere una corretta pressione sanguigna sono protettivi verso le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumori e diminuiscono il rischio di mortalità per malattie coronariche hanno anche effetti positivi sulle malattie neurodegenerative come l'alzheimer in pratica aiutano a prevenire molte malattie cronico-degenerative però rimane da dimostrare che questi benefici si ricavino davvero dal consumo di pesce quel che è certo invece è che assumendo pesce ci sono dei reali pericoli per la salute mentre ricavando gli omega 3 e dagli alimenti vegetali si possono ottenere benefici effettivi senza alcun effetto dannoso i problemi del pesce sono diversi intanto contiene grassi di diverso tipo quindi non soltanto gli omega 3 tra il 15% e il 30% dei grassi del pesce è costituito dai dannosi grassi saturi una percentuale che è poco inferiore a quella che si trova nella carne di manzo o di pollo il pesce contiene anche molto colesterolo i gamberi e altri crostacei hanno quasi il doppio di colesterolo rispetto al manzo oltre a contenere pochi omega 3 in generale il pesce più comunemente consumato è molto meno ricco di omega 3 di quanto si pensi una ricerca pubblicata nel 2008 sul Journal of American Dietetic Association dal titolo the content of favorable and unfavorable polyunsaturated fatty acid found in commonly eaten fish ha mostrato che i pesci più venduti sono quelli che contengono meno omega 3 per di più la carne degli animali marini è un ricettacolo di inquinanti specie i tessuti adiposi proprio quelli in cui si trovano gli omega 3 in sostanza gli stessi pesci il cui consumo viene raccomandato per il loro contenuto in omega 3 sono poi quelli il cui consumo è sconsigliato per il loro contenuto di inquinanti ambientali questi inquinanti sono stati definiti contaminanti organici persistenti o bioaccumulativi con la sigla POPS poiché persistono nell'ambiente per molti decenni e si accumulano negli organismi animali uomo incluso si tratta di metilmercurio diossina e policlorobifenili ma anche idrocarburi policiclici aromatici e polialogenati bifenili insomma giusto per fare un po' di nomi il pesce rappresenta una delle principali fonti di assuzione di questi composti da parte degli esseri umani il nostro organismo non ha alcun sistema per eliminare queste sostanze e non è in grado di contrastare le loro numerose influenze negative che succedono per esempio come un aumentato rischio di patologie croniche malattie cardiocircolatorie neoplasie diabete di tipo 2 in aggiunta poi ancora a alterazioni che possono essere immunitarie allergiche per questo il consumo di pesce in particolare di pesce grasso è particolarmente sconsigliato per le donne in gravidanza in allattamento e per i bambini anche se naturalmente è fonte di pericolo un po' per tutti poi però esistono anche gli omega 6 che sono anch'essi dei grassi essenziali ma questi grassi abbondano nei cibi in particolare ne sono ricchi gli oli di semi e quindi non occorre preoccuparsi di non assumerne abbastanza anzi al contrario il loro consumo va limitato perché può interferire con l'assimilazione degli omega 3 tra l'altro l'attenzione al consumo di omega 3 è più importante per gli onnivori perché i vantaggi degli omega 3 come abbiamo visto sopra sono rappresentati soprattutto dalla prevenzione di alcune malattie malattie che colpiscono mediamente di più gli onnivori rispetto alle persone che seguono una dieta 100% vegetale infatti i vegani godono già di una maggiore protezione verso queste malattie e quindi sono gli onnivori soprattutto quelli che seguono la dieta tipo italiana con un ampio consumo di ingredienti animali che dovrebbero preoccuparsi di assumerne abbastanza invece anche perché l'alimentazione onnivora media contiene pochissimi omega 3 non c'è dunque motivo di doversi porre il problema degli omega 3 proprio nel momento in cui si passa a una dieta 100% vegetale comunque in ogni caso se si vuole seguire una dieta particolarmente sana e salutare è giusto introdurre i cibi vegetali ricchi di omega 3 nella propria alimentazione quali sono questi cibi ricchi di omega 3 allora l'olio di semi di lino l'olio che però deve essere tenuto in frigo una porzione equivale a un cucchiaino circa 5 grammi semi di lino macinati una porzione di 3 cucchiaini quindi circa 10 grammi noci una porzione di 30 grammi circa 6 noci semi di chia sempre macinati una porzione che equivale a 15 grammi i semi è meglio macinarli perché sono molto piccoli e hanno la cuticola molto dura e un po' scivolosa e quindi da masticare scappano un po' da tutte le parti e bisogna però macinarli al momento o comunque nell'arco della giornata perché altrimenti le proprietà il contenuto di omega 3 viene perso la quantità ottimale da assumere nella giornata è di questo quantitativo due porzioni non necessariamente dello stesso tipo di cibo ma anche una porzione di uno e una di un altro queste indicazioni tra l'altro sono state tratte dalle raccomandazioni del piatto WEG le linee guida per una sana alimentazione che sono promosse dalla società scientifica di nutrizione vegetariana la cosa importante per quanto riguarda dicevamo l'olio di lino che deve rispettare la catena del freddo quindi deve essere sempre mantenuto in freddo dalla produzione quando viene appunto negli scaffali tenuto negli scaffali dei negozi e poi dopo anche in casa tenuto al freddo diciamo che specificando meglio per quanto riguarda gli omega 3 questi sono ricavati dai vegetali in forma di acido alfa linoleico con la sigla ALA l'unico grasso essenziale di tipo omega 3 cioè vale a dire l'unico che il nostro organismo non è in grado di costruire e deve quindi ricavarlo dall'alimentazione gli ALA si trovano nei semi e olio di lino di chia e delle noci come abbiamo visto prima tutti alimenti molto semplici sostenibili che non provocano alcun danno e si trovano in qualsiasi supermercato il nostro organismo poi cosa fa converte gli ALA detti appunto acidi grassi a catena corta in acidi grassi a lunga catena che sono il DHA e l'EPA che hanno tutto un nome molto lungo e che poi lo potete trovare comunque se andate su internet lo trovate il tasso di conversione è sufficiente per poter ottenere la quantità corretta di omega 3 a lunga catena uno studio della European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition ha evidenziato che le donne vegan hanno quantità maggiori di omega 3 nel sangue rispetto a quelle onnivore a quelle latto ovo vegetariane e a quelle che non consumano carne ma consumano pesce la conclusione è stata che nelle persone che non consumano pesce il tasso di conversione da ALA alle sigle che abbiamo detto EPA e di H a catena lunga potrebbe essere naturalmente più alto gli omega 3 a lunga catena diciamo che sono la forma che si trova di solito negli integratori vegetali e deriva da alcuni tipi di alghe marine infatti in natura gli omega 3 a catena lunga sono nelle alghe e solo in alcuni tipi di pesce ma in questi misura molto minore di quanto invece di solito si creda cioè nei pesci grassi come il salmone la trota e la ringa questi pesci non contengono solo però questi acidi grassi benefici ma anche una elevata percentuale di grassi saturi tra il 15 e il 30% cioè quelli dannosi colesterolo e che promuovono le stesse malattie degenerative che gli omega 3 dovrebbero contrastare in più gli inquinanti presenti nelle acque o le sostanze chimiche usate negli allevamenti dei pesci si concentrano nelle carni dei pesci in particolare nel grasso e quindi consumare pesce non è proprio una scelta salutare le carni dei pesci contengono omega 3 solo perché i pesci consumano alghe che sono la fonte primaria di questo nutriente allora perché non è meglio non so è opportuno ricavare gli omega 3 cioè dal pesce invece che direttamente dalle alghe intanto per prima cosa gli effetti negativi dei grassi saturi e degli inquinanti contenuti nel pesce superano come dicevamo gli effetti positivi degli omega 3 e quindi sarebbe davvero un controsenso ricavare questo nutriente dal pesce in secondo luogo perché sarebbe proprio impossibile dal punto di vista un po' anche ecologista è impossibile aumentare di molto il consumo di pesce per tutta la popolazione quando già con i consumi attuali sono state decimate la maggior parte delle zone di pesca e devastati gli oceani per non parlare poi anche degli elevamenti di pesce come abbiamo visto prima e in più a questo punto sarebbe molto meglio non so avere anche da un punto di vista economico una derivazione di omega 3 dai semi e non tanto dai pesci sarebbe meglio per tutti non solo per i vegani ma anche per gli onnivori e poi ancora un'altra cosa se gli omega 3 si trovano nei pesci perché i pesci mangiano le alghe tanto vale andare direttamente alla fonte primaria e quindi evitare tutti i passaggi successivi che aggiungono spreco di risorse inquinanti e grassi dannosi molti studi scientifici hanno anche riscontrato che non esiste alcun legame tra il consumo di olio di pesce con omega 3 e il miglioramento della salute del cuore in un'analisi del Journal of American Medical Association che ha coinvolto 20 studi e più di 68.000 pazienti e un altro pubblicato sul New England Journal of Medicine riportano che i pazienti che hanno assunto integratori a base di olio di pesce non hanno ridotto il loro rischio di malattie cardiache e ancora altri studi hanno rilevato che non esiste alcuna associazione positiva tra l'assunzione di questi oli e le prevenzioni della demenza altri studi ancora hanno concluso che per il diabete di tipo 2 questi integratori non sono risultati protettivi che l'olio di pesce non diminuisce il rischio di ammalarsi di Alzheimer ne rallenta il declino cognitivo di chi è già malato e per di più ancora un ulteriore studio pubblicato nel 2013 dal National Cancer Institute ha concluso che gli uomini con maggiori livelli di omega 3 nel sangue dovute a olio di pesce avevano una maggiore probabilità di sviluppare cancro alla prostata e in una forma più aggressiva da questo si comprende facilmente come sia contraddittorio voler assumere gli omega 3 dal pesce e i benefici di questi acidi grassi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari sono annullati dall'aumento di rischio per le stesse malattie dovuto a colesterolo grassi saturi mercurio presenti nel pesce insomma ce n'è un po' di contraddizione ce n'è molta e quindi si conclude che il consumo di pesce non è sostenibile nemmeno per la nostra salute per cui l'unico modo realistico e attuabile per ricavare gli omega 3 è da fonti vegetali per tutti non solo per chi segue un'alimentazione plant based e comunque la dieta al 100% vegetale già da sola è in grado di prevenire e anche di curare le malattie cardiovascolari e contiene zero colesterolo quindi per concludere ricordatevi che con due porzioni al giorno di cibi vegetali ricchi di omega 3 si copre il fabbisogno in modo molto più sicuro comodo e razionale rispetto al consumo quotidiano di alte quantità di pesce quindi la porzione equivale a rivediamolo un cucchiaino di olio di semi di lino da frigo oppure tre cucchiaini di semi di lino macinati oppure 30 grammi di noci oppure 15 grammi di semi di chia macinati in definitiva diciamo che è importante rendersi conto come sia molto più conveniente l'assunzione di omega 3 dai cibi vegetali non sono pericolosi sono molto meno costosi contengono sostanze benefiche aggiuntive e non sono causa tra l'altro di impatto ambientale elevato come accade invece per la pesca sia che sia in mare che di acquacultura bene direi che per oggi di fermarci qui anche se quello del pesce è un argomento davvero vasto che vale la pena di approfondire anche per quel che riguarda le nuove ricerche sulle alternative vegetali al pesce e che potremo magari trattare in una prossima puntata allora intanto mi raccomando rimanete connessi su www.radiodreamland.it ciao a tutti da Miriam Madau e a risentirci al prossimo appuntamento con Vegan Sea e a risentirci